Buongiorno, sono Gianfranco Roggeri, sono ingegnere civile, mi occupo di progettazioni edilizie e gestiamo qua, in questo posto dove siamo, l'albergo Lunciola di Santo Stefano Amicare. Assieme all'amico Enrico Alvilante di Sanremo News, Targato CN, Savona News, eccetera, abbiamo avuto l'idea di proporre le permute certificate, la soluzione anticrisi per le aziende. Di che cosa si tratta? Si tratta di una sorta di baratto per valori di una certa somma in su, dai 2-3 mila euro a salire. L'oggetto della permuta possono essere immobili, automobili, prestazioni professionali di un certo livello, per esempio tutta una progettazione edilizia di un edificio, la progettazione antincendio di un capannone, opere di adeguamento, opere strutturali di un certo livello. Possono essere le opere di un artigiano, le opere per esempio di un muratore che vi ristruttura la casa, le opere di un elettricista che vi rifà l'impianto elettrico del capannone, eccetera. Questi beni di un certo valore, può essere una vacanza, per esempio qui all'Albina, albergo, 15 giorni di vacanza, certo può essere un pranzo di nozze, per esempio 5 mila euro di un pranzo di nozze. La permuta si chiama certificata perché c'è il mio studio tecnico o altri tecnici che certificano il valore dei beni oggetto di permuta, quindi i beni sono garantiti da un'aperizia a monte che li garantisce. La cosa importante delle permute certificate è che non si tratta di permute a due, ma si tratta di permute a molti poli, cioè io baratto con A, A baratta con B, B baratta con C, C baratta con D, D baratta con A. Quindi la permuta ha molti poli, viene gestita su un ambito territoriale piuttosto ampio, quindi con ampie possibilità di scelta, con molte opportunità, infatti parliamo di quattro province, Imperia, Savona, Asti e Cuneo e anche un pochino di Dipartimento delle Alpi Marittime, quindi sino a Nizza, quindi il territorio è piuttosto vasto e le possibilità sono vaste. Se ci contattate su www.permutecertificate.com troverete le nostre spiegazioni. Grazie.